In effetti cominciamo, è una parola, sì è una parola, però dica è una parola cominciare, perché il difficile non è tanto finirlo uno spettacolo, perché prima o poi uno spettacolo finisce quando il pubblico non ce la fa più, che boccheggia così, ma lì già lo spettacolo si può dire terminato. Diciamo che la difficoltà sta nel principiarlo uno spettacolo. Da cosa si può iniziare? Da chi si può iniziare? Da chi? Da chi? Da me? Va bene, cominceremo da me, da quel che sono stato, quel che sono, quello che sarò? Va bene, cominceremo da me, perché io, per arrivare qui dove sono oggi, non tanto qui perché mi ci hanno portato, però diciamo qui in senso lato, ebbene io ho impiegato 30 anni di carriera, 30 anni, sembrano tanti, ma 30 anni non li danno più a nessuno, a chi danno più 30 anni? Attenvanti generiche è un buon avvocato e sei subito fuori, ma alla fine, alla fine ho capito che ogni traguardo è un nuovo punto di partenza, perché il viaggio, il viaggio ricomincia sempre dal punto in cui ti sei fermato, perché come dice il poeta? Il poeta dice la vita è una favola vuota raccontata da... come dice il poeta? Il poeta dice la vita è come una scatola di cioccolatini, se tu li mangi tutti poi ti prende lo... no, come dice il poeta? Il poeta dice la vita è una successione di capolinea, ecco cosa diceva il poeta, e ha ragione, la vita è una successione di capolinea, e io di capolinea me ne intendo, non perché sia possessore di capolinea, ma perché io i capolinea li ho frequentati, io i capolinea li ho bazzicati, certo, perché quando ero bimbo, ero piccino, ero infante, ero infantino, io abitavo in quel di Dragona. Dragona è una ridente borgata romana e sta, se tu ci vuoi andare, sta, che se tu proprio devi andare che ti urge, che sei diciamo costretto con armi in mano, e tipo, c'è presente quando vai, tipo quando tu vai, tu intanto vai, non alla prima, non alla seconda, non alla terza, poi domandi, perché Dragona non è facile trovarla, perché è abusiva, sì, 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 lì la bellezza di Dragona è tutta abusiva, sì, sì, infatti non c'è stato mai nessuna Dragona che ha avuto il permesso di costruire da parte del comune, no, no, c'è stato uno nel 72, ma gli hanno menato, bastardo, ma chi ti credi di essere, con questo permesso, ma andò, anfame, ci metti in cattiva luce, infatti l'hanno crocchiato e è andato a abitare a Viterbo, perché Dragona non ha mai avuto, diciamo, un criterio urbanistico, no, è stata costruita così, d'un bleu, no, alla Saint-Fosan, come dicono i francesi, a culo de gatto, come diciamo noi, cioè, è stata costruita così, nottetempo, nottetempo, che è l'unico tempo di notte in cui i vigili urbani non passano per metterti il cartello, no, famoso cartello, lavori edili, abusivi, privi di autorizzazione, sono sottoposti a sequestro giudiziario, chiunque si immetterà nell'area sottoposta a sigilli, subirà l'articolo 48-56 del 1958, questo cartello a Dragona noi lo sappiamo tutti a memoria, specialmente ai bambini, perché lo recitano a Natale, uno dice, di il cartello a nonno, sai quelle cose, Dragona è stata costruita così, veramente, nottetempo, ma così, in un lampo, tu passavi a Dragona il giorno prima e c'era un prato con un cane che giocava, passavi il giorno dopo una palazzina dei sette piani col cane che giocava sul terrazzo, che non ha fatto un tempo a scappare, di notte, che avevano costruito il palazzo sotto, capito? Quindi, concettualmente, Dragona non ha un criterio urbanistico, non la trovi perché non è stata mai, diciamo, contemplata in un piano regolatore, in una carta toponomastica, non c'è. Dragona è come Atlantide, tutti dicono che c'è stata, ma nessuno la trova. Dragona è abusiva, ma tutto abusivo, è tutto, sì, pure la caserma dei Carabinieri è abusiva. La chiesa, una bella chiesa, Santa Maria Regina dei Martiri, una bella chiesa, è abusiva, l'ha costruita il vecchio parroco Don Andrea, ci è voluta la mano del Dio, però poi ce l'ha fatta, con grande fatica, alla fine ci ha messo una croce sopra, ha detto, senti, io ci metto una croce sopra, perché sennò non si differenzia con le altre abitazioni. Chiaramente a Dragona è tutto abusivo, per cui non esistono cose comuni, tipo la farmacia, ma andò a Dragona, è abusiva, l'acqua potana, ma dai, c'è il pozzo, le fognature, ma quale fognature, butta lì in un prato quello che non strozza in grassa, che deve andare, per cui è abusiva, la chiesa è abusiva, ecco, diciamo, l'unica cosa ad uso comune, che c'è a Dragona è la marana, una bellissima marana, la marana è tipo Fogna, ma un po' più larga, è una marana affluente del Tevere, dove affluisce non solo acqua marcia, ma anche scocche di 500, vespe rubate, cessi rotti, materassi sgarupati, ethernet, calcinacci, liquami, vernici, e in quell'habitat, diciamo, che regna sovrana la zanzara. Ci sono delle zanzare, OGM, delle zanzare di un etto, un etto e mezzo di peso, zanzare che non volano, non ce la farebbero, camminano, camminano belle e veloci, sono zanzare che seguono la vittima, hanno fiuto, la individuano, di solito seguono gli umani verso casa. Quando l'umano è alla ricerca delle chiavi per aprire il portone, la zanzara si appizza, come si dice in gergo scientifico, si appizza, quando poi la vittima apre il portone di casa, la zanzara entra, si appizza lì e aspetta la notte. Ora, o l'umano si addormenta da solo, o la zanzara va in cucina, apre il gas e fa addormentare gli astanti, a una certa ora chiude il portone blindato, l'accio emostatico batte la vena della vittima e succhia il sangue e questo plasma umano lo mette in alcune tanichelle da 5 litri di cui è dotata sotto le ali. Ora, nella marana non c'è solo la zanzara, c'è, cresce, diciamo, pasce anche la pantegana. Ci sono, tra quei liquami, non avendo predatori, delle soreche di questa portata e dei topi di un metro, un metro e venti, alcuni esemplari maschi raggiungono anche il metro e cinquanta. Sono dei topi, che li riconosci grandi, perché hanno anche la sella di cuoio, che uno magari li può anche cavalcare per fare un girino, sai, uno porta un bambino intorno alla marana da due soldi all'allevatore. Sono dei topi che, non avendo predatori, sono cresciuti un po' arroganti, perché si nutrono di ethernet, mangiano calcinacci e liquami, quindi sono dei topi veramente cattivi, perché se tu hai un topo di campagna, fa pussa via, e il topo scappa. Ma se tu becchi una zocco alla dragona e gli fai pussa via, che cazzo vuole litigare? Sono prepotenti, votano Casa Pound, per dire, no? Comunque, diciamo, a Dragona, tra quei liquami e, diciamo, in quell'atmosfera così veramente selvaggia, diciamo, non ci possono essere scuole. A Sabastandira, a Dragona, le scuole, abusivo, quale scuole? Anche se, anche se, e questa è una notizia che voglio dare qui in Eurovisione, anche se io ho fatto le scuole. Lo so, destabilizza. Qualcuno potrà dire, ma no, vedrai che è autodidatta. No, no, io ho fatto le scuole dell'obbligo. Ma ho obbligato mio padre, non ci sarei andato a dire la verità. Mio padre, il genitore, mi ha obbligato, mi ha convinto ad andare a scuola perché mi diceva se non vai a scuola te cionco, io te stacco le braccia e te cemeno forte, se non prendi un foglio di carta io te brucio con la naffetta, io te abbandono al camarca via, se tu non vai a scuola te metto dentro un pilastro di cemento armato. Diciamo che mio padre era antesignano del metodo Montessori, insomma, per capirci, mi convinceva, senza menare, senza menare. Mio padre, tanti anni, non mi ha mai toccato con un dito, con la cinta, con il tortore, con la scopa, con il bastone, però mai...